Sì, sono molto grata di essere tornata in salute. Che tutte le malattie appartengono al passato, che non ho più nulla a che fare con l'intossicazione e che posso godermi la natura fino in fondo, in tutta la sua bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ad essere una famiglia sana e sportiva, ad essere costantemente stanchi, distratti e privi di energie. Quando salivo al secondo piano ero costretta a sedermi subito. Di conseguenza dovetti lasciare la mia attività di jogging, che amavo, visto che non avevo più energia sufficiente per continuarla. Anche la mia capacità di concentrazione era molto bassa. Avevo problemi nel parlare, problemi con l'articolazione del linguaggio. Inoltre mi sentivo sempre come fossi ubriaca da quanto ero storbita. Avevo una sensazione di bruciore nelle mucose, una sensazione di bruciore nella bocca e una sensazione di bruciore sulla pelle. Come ho detto, mi venivano mal di testa che si scatenavano improvvisamente, a seconda della quantità del prodotto utilizzato per ogni locale. Successivamente ebbi anche delle aritmie cardiache e una volta venne anche ricovelata in clinica. Pensai di avere qualche disfunzione cardiaca. Il mio emocromo segnalava anomalie e cominciai a temere il peggio. Più tardi ebbi anche dei calcoli renali con coliche costanti, in aggiunta a disfunzioni gastrointestinali piuttosto serie. Non potevo mangiare diversi alimenti, tra cui i latticini, frumento e i suoi derivati. Quando li mangiavo, l'addome si gonfiava e mi venivano crampi. Quei crampi erano veramente dolorosi. In aggiunta, mi fu ritrovato sangue nelle feci. Andava sempre peggio. La situazione era arrivata ad un punto tale per cui eravamo già allo stremo. Così cominciammo a peregrinare di medico in medico. Nessuno però riusciva a riscontrare nulla di oggettivo. Ci riempivano solamente di medicinali. Poi lessi sui giornali di intossicazione da protettivi per legno e che questi agenti chimici distruggono il sistema immunitario e possono addirittura alterare le cellule cerebrali. Pensai che probabilmente questa era la situazione in casa nostra. C'erano diversi lotti. Forse ci eravamo imbattuti in un lotto fortemente tossico. E poi, la precisione tedesca. Non c'era stato sufficiente di passare il pennello una sola volta. Bensì, tre volte. A quel punto il legno era eccessivamente impregnato di sostanze chimiche. E adesso? Come si può guarire? Ci informammo seriamente e ci venne detto, per prima cosa dovete risanare tutta la casa. Infine il medico di famiglia ci rilasciò un apposito certificato. Venne poi un dirigente sanitario di zona e ci disse, questo non è sufficiente. Dovete lasciare la casa per non mettere continuamente a repentaglio la salute della famiglia. E così abbiamo fatto. Per un po' siamo stati meglio, ma ricominciavano i problemi appena entravamo in contatto con questi agenti chimici, in qualunque posto fossimo. Ovviamente quella non era vita, perché era come se fossimo obbligati a vivere isolati. Dovevamo costantemente pensare, dove possiamo andare? Inoltre, mi fu detto che con l'ipersensibilità a queste sostanze ci avremmo dovuto convivere. Era incurabile. Dopo un po' di tempo ricevetti un articolo su un giornale a cui ero abbonata, De Annatua Azt, Guarigione sulla via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning. Siccome l'articolo era scritto da un medico, pensai, tutto ciò deve essere una cosa seria. Pensai, questo me lo leggo con attenzione. Parlava di una forza, di una energia, dell'Heilström, che non è possibile vedere con gli occhi, ma che è possibile sentire nel corpo fisico. E ad un certo punto sentii qualcosa dentro di me. Pensai, Ehi, ma cosa mi sta succedendo? Improvvisamente, un forte senso di caldo attraversò tutto il mio corpo, poi un freddo intenso, come fare prima una doccia calda, e subito dopo una doccia gelata. Poi, di colpo, un formicolio mi attraversò tutto il corpo, di punto in bianco mi sentii come se stessi ingrassando a dismisura, e dentro di me avevo questa sensazione. Ecco, stai guarendo. Questo aiuterà te e la tua famiglia. Fu piuttosto facile lì. Sentii profonda gioia. Successivamente abbiamo fatto regolarmente Einstein a casa, con tutta la famiglia. Notammo che stavamo costantemente migliorando. Diventammo sempre più stabili. Riuscivamo ad assorbire sempre più forza. Romai lo sapevo. Tutto ciò sarà spazzato via. Ero felice. Sebbene avessi ancora dei dolori, sì, sapevo. Adesso a tutto ciò devo resistere. Infatti, dopo tre giorni, tutto era passato. Oggi, io e la mia famiglia possiamo andare di nuovo dove vogliamo. Quando andiamo in vacanza, non abbiamo più bisogno di telefonare per chiedere come sono le vostre camere. Possiamo entrare in qualsiasi auto nuova. Possiamo entrare in qualsiasi grande magazzino. Non ci ammaliamo più. Vorrei commentare questa testimonianza di guarigione da un punto di vista medico. L'ipersensibilità a diversi agenti chimici è incurabile, secondo le indicazioni dell'attuale medicina. Come avete sentito, la signora Weiss ha provato diverse terapie tradizionali, senza successo. Parimenti ha seguito anche cure alternative, che hanno dato solo un po' di sollievo, ma nessuna guarigione. E poi, è straordinario, e spiegabile da un punto di vista medico, che la signora sia guarita attraverso l'assorbimento di una forza spirituale. Assolutamente incredibile, che ora sia libera da tutti i tipi di ipersensibilità, da tutti i disturbi, e dai sintomi della malattia. E aggiungo anche, che non c'è stata solamente la guarigione fisica dalla malattia. Sì, sono molto grata di poter essere in salute. Tutte le malattie appartengono al passato, e anche l'intossicazione non ha più nulla a che fare con me. Ora posso godermi la natura a pieno, e in tutta la sua bellezza. Sono anche molto grata di aver trovato questo percorso, questo insegnamento di Bruno Gröning, la guarigione sulla via spirituale. Ecco, sono veramente felice, e ora posso godermi la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.